Sono diventate operative nelle Marche le 15 centrali operative territoriali previste nell'ambito della missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR ha stanziato risorse pari a oltre 2 milioni e mezzo di euro per la realizzazione delle centrali che hanno il compito di coordinare tutte le attività territoriali dei distretti svolgendo il ruolo di cabina di regia con l'obiettivo è di assicurare accessibilità, continuità e integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Dal 1 luglio sostanzialmente l'entrata in funzione delle 15 cotte territoriali garantiranno un coordinamento operativo tra i servizi distrettuali, quindi sono i servizi territoriali svolti dai distretti, gli specialisti ambulatoriali, dai medici di medicina generale e dai pediatri con gli altri livelli del sistema sanitario, quindi il sistema dei posti letto per acuti, le dimissioni dai reparti e quindi diciamo che si crea una struttura operativa voluta dal decreto ministeriale 77 che tende a dare una copertura e garantire, superare quella lacuna che si è registrata negli ultimi anni appunto sui servizi territoriali. Immaginiamo per esempio nelle zone dove c'è la carenza di medici di medicina generale o dei pediatri. Le centrali operative territoriali coordinano e ottimizzano gli interventi, ad esempio sono in grado di monitorare lo spostamento dei pazienti da un luogo di cura all'altro e da un livello clinico assistenziale all'altro, le disponibilità di posti nelle strutture territoriali e ospedaliere e di organizzare le prestazioni di assistenza domiciliare integrata. La centrale operativa territoriale regionale è in funzione 7 giorni su 7 per 12 ore, estendibile H24, mentre le 14 distrittuali sono in funzione 6 giorni su 7 H12 e sono strettamente interconnesse con la cotta regionale. Ognuna di queste centrali operative ha il personale necessario per garantire appunto questo tipo di coordinamento e quindi diciamo che forse del decreto ministeriale 77 è l'unica struttura che è in grado di operare integralmente, quindi diciamo che le cotte almeno dal punto di vista pratico e teorico sono in grado di operare e di garantire questo coordinamento. Le centrali attivate sono ad Ancona 2 e poi a Iesi, Senigallia, Fabriano, Pesaro, Fano, Urbino, Macerata, San Severino Marche, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo e Montegranaro.